È lo scorcio più fotografato di frontone, ma non è un monumento e neanche la casa natale di un personaggio storico. Un'abitazione però lo è, quella della signora Guerina. Da sempre amante dei fiori ha adornato la facciata del grazioso stabile situato nel cuore del borgo con tantissime specie di piante di ogni genere e colore. Le specie sono una quindicina, però come i gerani sono sopra 100 piante, più una ventina di hortensi e più altre piante varie. Una passione che Guerina ha avuto sin da ragazza e che ha coltivato negli anni. Così, passeggiando tra i vicoli del castello, ci si imbatte in quest'angolo fiorito che ha reso la casa una vera e propria attrazione. Fotografano tutti, non c'è nessun passaggio che non fotografa. Mi chiedono più che altro come faccio a annaffiarli. No, c'è nessun segreto perché quelli in alto dalle finestre e quelli sotto con la scala. A sentire lei una passione che non le ruba neanche tantissimo tempo. Ma non tutti i giorni, un paio d'ore. Uno sforzo minimo per un risultato che le ha valso il conferimento della bandiera arancione del touring consegnata dal sindaco. Un gesto di apprezzamento per chi dedica parte del suo tempo ad abbellire il paese rendendolo indimenticabile.